Anche oggi vi presentiamo non un cane ma un micio, un bellissimo micio, guardate guardate che carino, non sta fermo naturalmente perché è un cucciolino. Lui è Aki e ha due mesi, è abbandonato e si trova in uno stallo qui a Ginosa in casa, sarebbe morto altrimenti. E' stato trovato a circa 12 giorni, quindi ancora in periodo di allattamento e nessuno poteva tenerlo perché con tutte queste emergenze le volontarie sono veramente piene, non sanno più dove mettere i cani e i gatti, soprattutto chi si occupa di gatti, ne ha tantissimi. Meno male che abbiamo trovato questo bello stallo e lui è cresciuto come potete vedere benissimo, è splendido questo micino, sanissimo, ha dei colori splendidi ma non soltanto l'aspetto è bello, anche il carattere è di una dolcezza infinita. Adesso non sembra perché lui in realtà vuole scendere, è curioso, ecco non gli va di stare in posa. Facciamo vedere questo bel faccino, intanto vediamo il dorso, i colori, grigio, tigrato e bianco, tutto bianco da sotto, vediamo, eccolo qui, si chiama Aki, prima lo chiamavano Ercolino ma gli abbiamo dato questo nome più semplice da pronunciare, più simpatico, ecco qui. Allora lui ha una particolarità, ama l'acqua, se voi volete fargli il bagno lui sta fermo immobile, proprio si rilassa, gli piace, non fa per niente storie, è un gattino molto docile, anche quando gioca con la bocca non stringe e non usa le unghie, non è un gattino di quelli che sono un pochino selvatici, può capitare, lui è dolcissimo, va d'accordo con gli altri gatti, non ha paura delle persone che non conosce, infatti quando io sono arrivata lui tranquillamente si è fatto prendere in braccio, gioca con la pallina naturalmente, ha una predilezione per la pallina di carta, questo giochino ti piace Aki, ti piace? Vediamo, quello sarebbe un tiragraffi ma lui dov'è che se ne fa le unghie? Dove non deve, vabbè ci sta, chi ha gatti lo sa, anche sui cartoni ecco, può evitare di rompere i mobili, la tappezzeria andando sui cartoni, ecco qua, fatti vedere Aki che sei così carino, guardate questo amicio, questo faccino, quanto è bello, ritroviamo una bella famiglia? Non può rimanere in stallo, non è giusto, poi si affeziona e se ne deve andare prima o poi, perché comunque non è che chi fa stalli deve avere l'invasione degli animali o si deve ritrovare con tanti animali a carico, dobbiamo premiare le persone che si mettono a disposizione facendo in modo che l'ospitalità abbia un termine, anche se alla fine è anche piacevole tenere questo gattino, è troppo coccoloso, è coccolosissimo, Aki, volendoti fare delle fotografie, ce le fai fare? Ci riusciamo a fare delle foto? Come facciamo? Come ti distraiamo? Con i croccantini, con i croccantini, è goloso? Sì, tanto, ecco, la lettiera ha imparato a usarla da subito, vero? Quando ancora allattava al libero, quando ancora allattava a 15 giorni, a 15 giorni ha usato la lettiera, bello pulito e profumato questo gattino, è un amore, che vuoi fare, tu vuoi giocare, vuoi scendere, è incuriosito dagli altri gatti, è bellissimo, adottatelo, ciao Aki, ciao! Grazie a tutti!